Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, questo è Sette in Punto. Questa mattina trattiamo argomenti quanto mai di attualità, che tocchiamo proprio in queste ore, in questi giorni, in queste ultime settimane purtroppo. Lo facciamo con una persona che ritroviamo molto volentieri, che avevamo avuto ospite prima della pandemia, adesso c'è anche il prima e il dopo purtroppo. Andiamo subito a salutare e ringraziare di essere con noi Mirella Zambello, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Vento. Dottoressa Zambello, buongiorno a lei. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Grazie a lei di essere con noi, il suo sorriso ci fa sempre molto piacere, perché insomma c'è bisogno di sorrisi purtroppo in questo momento in cui siamo spesso virati verso espressioni un po' più serie. Affrontiamo subito con lei la realtà che stiamo toccando proprio in questi momenti, anche perché è una realtà che ci è arrivata incontro, diciamo, tanti bambini, profughi, non solo bambini che sono nelle nostre realtà accolti. Diciamo, dal suo punto di vista, come Presidente degli Assistenti Sociali del Vento, qual è l'idea che si è fatta? Un po' banale come domanda, ma qual è il punto di vista anche di fronte a questa incredibile emergenza? Non le facciamo cantare slogan di pace, perché quello inevitabilmente ci trova tutti accomunati, ma proprio dal punto di vista suo di assistente sociale. Direi che gli assistenti sociali si sono trovati ad affrontare, assieme a tutti gli altri operatori sociali del sistema sociosanitario, la pandemia del Covid, dell'emergenza Covid, che in qualche maniera ha evidenziato le criticità, ma ha anche amplificato tutte nuove forme di sostegno, di innovazione. Ecco, accanto a questo, e quindi una collaborazione peraltro, fra queste, molto stretta e virtuosa, con il mondo del terzo settore del volontariato. Mi permetto quindi di partire da questo. Quella emergenza, ancora in coda, ha permesso di essere quasi pronti per accogliere, perché di questo si tratta, i rifugiati dall'Ucraina, le donne soprattutto e i bambini che stanno arrivando, perché c'era già collaudata questa rete integrata, perché davvero il sistema dei servizi pubblici, assieme al mondo del volontariato del terzo settore, si è subito adoperato per fare forme di accoglienza, dalle pronte accoglienze alle emergenze, anche attualmente si stanno sviluppando forme di integrazione, perché appunto l'emergenza della guerra non porta certo questi rifugiati a rientrare subito nelle loro città, nelle loro patria, come invece avrebbero desiderio. Quindi ecco quello che mi permetto di sottolineare è che nelle comunità, nelle nostre città, si è attivato subito questa palestra di solidarietà e di collaborazione, ecco questo sì, tra le istituzioni, le prefetture in primis, la protezione civile, che già appunto nella pandemia si era attivata, i comuni, i servizi dell'ASL e poi tutto questo tessuto del mondo del volontariato, della cooperazione sociale che in particolare nel Veneto è un capitale sociale importante. Sì, insomma, poi siamo in una Padova che è stata capitale del volontariato, insomma da quel punto di vista, parliamo di Padova ma avremmo potuto parlare di Verona, di Rovigo, di Belluno, insomma tutta la realtà veneta effettivamente ha una vocazione particolare, qualcuno dice che senza il volontariato l'Italia sarebbe un paese dell'ottavo mondo, neanche del terzo o del quarto, insomma, per cui diamo effettivamente a Cesare quel che è di Cesare. Non le pare che stiamo vivendo una specie di Medioevo perché ci sono situazioni che ci riportano a una storia ma neanche alla seconda guerra mondiale, qualcuno dice sono i corsi e ricorsi della storia, possiamo metterla in questi termini? Sì, beh, intanto stavamo già affrontando senza queste emergenze il problema importante della povertà l'ultima volta che ero venuta qui ospite, avevamo parlato di questo, del piano povertà anche del Veneto a cui avevamo collaborato e stiamo quindi ancora proseguendo con questi interventi, il Ministero peraltro ha individuato dei finanziamenti importanti per poter potenziare i servizi, i servizi sociali, la rete dei servizi sociali nei territori. Quindi ecco questo è l'altro tema importante su cui siamo impegnati tutti, sia gli operatori che sono presenti nei territori e che lavorano con queste emergenze, ma anche a livello più generale di programmazione perché si sta implementando e quindi facendo ulteriori assunzioni di diversi operatori di varia natura ma anche di assistenti sociali. Infatti il Ministero ha individuato proprio come livello essenziale di presenza degli assistenti sociali una figura una ogni 5.000 ma addirittura una ogni 4.000 quella che permetterebbe, permetterà al tessuto sociale, alle collaborazioni, quello di cui parlavo prima di lavorare meglio, di mettere meglio in rete queste risorse preziose, sia del mondo del servizio pubblico che va chiaramente a innovarsi, a migliorare, ma anche a quel capitale sociale del mondo del volontariato che porta il valore aggiunto agli interventi e anche tutto quel mondo della terza età che è molto diffusa anche nella nostra realtà e che ha bisogno di quella vicinanza oppure di quell'accompagnamento che permette di accedere ai servizi anche più qualificati. Ecco c'è proprio uno sforzo importante già attivato che sta continuando. Si avrebbe da dire purtroppo con una considerazione abbastanza macabra che eravamo stati quasi profetici parlando allora di povertà perché il fenomeno della povertà è sempre esistito ma questa pandemia ha contribuito ad esasperarlo in maniera talmente grande che non possiamo più nasconderci di fronte a situazioni, c'è altro che terza settimana e qui proprio persone che non sanno come partire dalla prima settimana perché persone che hanno perso il lavoro marito e moglie, c'è veramente delle congiunture che sono disperate e disperanti. Vogliamo dire oggi magari per chi ci ascolta, anche giovane, fare l'assistente sociale altro che missione insomma. È molto impegnativo e bisogna essere preparati anche a tutta una serie, una gamma di risposte perché le situazioni sono complesse, oramai non sono solo neppure di carenza di reddito ecco ormai è sancita che la povertà ha tutta una serie di altre variabili tant'è che in molti territori la nostra professione assieme ad altri professionisti è impegnata ad attivare quelle iniziative di contrasto alla povertà educativa. Ci sono stati fondi importanti da parte del Ministero, non a caso, proprio per evitare che i ragazzi, i bambini, i figli di famiglie con livello di reddito basso si infilino in quei percorsi di ingiustizia sociale e quindi ecco le iniziative che si sono sviluppate hanno potuto offrire recupero scolastico, possibilità economiche per pagare i corsi, a attività culturali, sportive, a tutte quelle realtà che permettono l'inclusione e la socializzazione e che permettono a tutti i ragazzi pari opportunità, ecco è uno sforzo importante che deve continuare e su cui siamo molto impegnati. E poi è un disagio che erroneamente credo, fino a qualche anno fa identificavamo sempre geograficamente con determinate aree, non è assolutamente vero il giorno d'oggi, anche perché siamo tuttora impegnati in un processo di integrazione, perché che non mi vengano a dire l'Italia è un perfetto esempio di integrazione, è un buon esempio di integrazione ma di strada ce n'è ancora da fare tanta ci sembra. Sì, sì, senza dubbio, bisogna lavorare molto per favorire l'inclusione delle persone anche straniere che rappresentano e possono rappresentare un valore. Anche questa esperienza, le persone, le donne in particolare che arrivano dall'Ucraina sono operose, hanno voglia di mettersi a disposizione e fanno anche servizi di volontariato. In queste settimane non solo sono state aiutate ma stanno aiutando. Ecco, questo è un esempio importante che già l'abbiamo sperimentato, ad esempio, nei progetti per il reddito di cittadinanza in cui le persone aiutate hanno svolto, offerto dal Comune, dei tirocini di lavoro, delle attività socialmente utili, per cui anche questa possibilità data alle persone che hanno bisogno di aiuto di poter rendersi utile e quindi di sentirsi in tutta dignità utile alla società è una variabile importante che così facendo si rischia di evitare quell'assistenzialismo che è sempre presente come rischio. Ecco, dobbiamo aiutare evidentemente laddove c'è bisogno, c'è tutto il tema della povertà abitativa, quindi un'attenzione importante, è importante offrire aiuti per evitare gli sfratti, insomma aiuti economici, questo è avvenuto in modo consistente, ma anche poi è importante favorire l'inclusione, favorire che le persone possano uscire dalla situazione del bisogno, chi per quanto ne ha la possibilità di mettere a frutto le proprie opportunità, le proprie caratteristiche. Su questo diciamo, mi sento di sottolineare, c'è ancora un lavoro importante su cui c'è un investimento, ma è da fare, con Veneto Lavoro, che è una realtà presente e importante, ma proprio per favorire gli inserimenti lavorativi delle persone dal percorso di aiuto, era il tema del reddito di cittadinanza, è tuttora oggetto di attenzione, perché non è facilissimo questo inserimento nel mondo del lavoro. C'è la necessità di qualificare adeguatamente le persone in base alle richieste delle aziende, laddove le aziende magari non trovano il personale adeguato per sviluppare l'attività. Quindi ecco, questo è un punto importante su cui anche i servizi sociali in rapporto, quindi ecco in rete con e le associazioni di categoria, che si stanno, sono molto presenti, ma anche poi quelle forme di supporto all'inclusione lavorativa, che passa attraverso la formazione, le opportunità, perché le persone non hanno i soldi poi per pagarsi i corsi di formazione, di riqualificazione. Quindi ecco, questo è un punto che permette ai servizi sociali di collaborare e stanno implementando questo aspetto qui con le opportunità di Veneto lavoro, restando nella nostra realtà. È il tema generale degli interventi che permettono di uscire dalle situazioni di povertà, ma insomma sul Veneto ci sono molti sforzi orientati a questo. Sa un'impressione? È quella del nostro mondo in cui la soglia di età si è alzata. Insomma ci sono molti anziani, persone proprio di una certa età, perché a giorno d'oggi effettivamente un settantenne non è quasi più considerato, ma diciamo un diversamente anziano, ma non proprio inquadrabile, si va un po' oltre. E invece ci troviamo ad avere a che fare con un popolo come quello ucraino che è giovane, perché si vedono queste donne, anche belle donne, ci scusi la considerazione da maschietti, ma sono giovani? Sì, sì, ci sono le nonne, che non sembrano certo le nostre nonne, ma che sono giovani, con le madri e con i bambini, sono arrivati nuclei così. E quindi insomma, se possono, per chi vorrà rimanere, sicuramente sono delle potenzialità, comunque possono essere utili fin tanto che non rientrano nel proprio paese. Ecco, però l'attenzione ad attivare queste forme di inclusione al mondo del lavoro diventa davvero importante, anche parlando di donne, per le nostre donne che hanno bisogno di rendersi autonomi, di uscire per esempio dai circuiti di violenza. Ecco, anche qua si sono sviluppate nei territori dei protocolli, mi sento di sottolineare questo, tra i servizi e tra gli operatori, per fare in modo che ci sia davvero un'opportunità e un accompagnamento all'uscita, alla protezione per chi subisce violenza, ma poi all'uscita da questa situazione. E evidentemente anche avere l'opportunità di un lavoro e di un'autonomia economica per sé e per i propri figli è fondamentale. Quindi ecco, anche nel territorio, tanto per aggiungere il lavoro che ci sta impegnando, si stanno sviluppando e realizzando questi protocolli con ulteriori servizi proprio per quello che è anche stata ed è la nostra emergenza nazionale, femminicidio e violenza sulle donne. Quindi anche su questo i servizi stanno lavorando molto. Sì, ci crediamo. No, sa, un'altra considerazione è che queste persone potrebbero diventare una risorsa incredibile perché ci troviamo di fronte a, io le chiamo ragazze e ragazzi, perché insomma donne di 34-35 anni, magari hanno il bambino di 12-13 anni, ma sono donne che conoscono il russo, che conoscono l'inglese, per carità al giorno d'oggi non ci sono più confini con internet, con la rete. Però diciamo, l'accezione comune che era quella noi occidentali di credere che gli orientali fossero tutti dei trogloditi appena usciti dal regime dell'Unione Sovietica, invece sono dei popoli che si sono evoluti, per carità, rimangono ancora delle zone d'ombra. Però effettivamente ci troviamo ad avere a che fare con un diverso tipo di sviluppo come civiltà con cui confrontarci. Le nostre comunità devono davvero affrontare la sfida dell'inclusione sociale, sfida nel senso di raccogliere le potenzialità, gli aspetti positivi che sono questi, che portano culture diverse, punti di vista diversi, ma anche il modo di essere più attenti alla potenzialità e sviluppare, perché non è possibile anche già che i nostri giovani rimangano inattivi fino a 28-30 anni. Questa era già una nostra fotografia di criticità, come dicevamo prima, sul tema della povertà c'è anche tutta la fascia giovanile che tarda a inserirsi nel mondo del lavoro, con una conseguenza di sviluppo delle potenzialità, delle opportunità, dei sogni che poi devono alimentare la crescita delle persone, delle famiglie, ma anche di un paese. Quindi questo è il punto importante, creare maggiore opportunità di occupazione, creare degli accompagnamenti, dei percorsi che favoriscono l'inclusione al mondo del lavoro, quindi con la formazione opportuna e quindi i sostegni economici dovrebbero mirare anche a sostenere queste opportunità, formazione adeguata alle opportunità di lavoro dei vari territori. Su questo davvero bisogna impegnarsi tutti. C'è caspita, oltretutto è una dispersione di risorse incredibile, non è che l'italiano è specializzato, però cerchiamo anche di abbandonare questo luogo comune per rivalutare un paese che avendo delle grandi potenzialità, insomma perché non sfruttare queste potenzialità. Noi vorremmo analizzare con Mirella Zambello un aspetto che riguarda non solo gli assistenti sociali, ma anche il suo incarico amministrativo, perché non avendone abbastanza di quello che già ha da fare, lei fa anche l'assessore al welfare del comune di Rovigo. Proprio la questione che vorremmo introdurre è proprio la domanda che rivolgiamo a lei, anche come assessore al welfare, come amministratore, perché pronunciamo questa parola di cui si stanno riempiendo la bocca tanti politici, questo PNRR benedetto, questo piano di ripartenza che dovrebbe distribuire delle risorse importanti, ma a fronte di queste risorse quali sono anche le proposte dal punto di vista, vabbè, come amministratrice ma anche come responsabile degli assistenti sociali della regione? Certo, il PNRR ha dato nei vari settori molte opportunità con delle tempistiche ben chiare, questo forse sarà il punto critico per la pubblica amministrazione, ma anche nel nostro comune per esempio c'è tutta la giunta impegnata e tutta l'amministrazione per proprio sviluppare e cogliere le opportunità anche di riqualificazione ambientale, di sistemazione dei quartieri e di rendere più utili e proficue tutte le realtà territoriali e le potenzialità. Anche nel sistema del welfare e della sanità ci sono delle misure specifiche che sono state accolte dalla regione e quindi anche poi nei territori, dagli ambiti o dalle asle e sono le misure, la misura 5 che riguarda proprio tutto il settore sociale che ha dato e dà dei finanziamenti per varie misure a sostegno della non autosufficienza per fare in modo che si sviluppino quelle opportunità nei territori alternative o quantomeno che ritardino l'istituzionalizzazione delle persone anziane, parlando appunto di persone anziane, il più tardi possibile o quantomeno realizzare quelle situazioni di housing sociale, sostenute con la domotica, tutta una situazione di miglioramento della qualità della vita supportata, abitare supportato e che permetterà nel tempo, questo ha anche il legame se vogliamo con i centri servizi o case di riposo, ma anche con queste opportunità di vivere nella città in maniera sicura e supportata dai servizi a domicilio. Questo è un altro punto importante su cui i servizi, tutti i servizi e anche la nostra professione è impegnata. In questi mesi qua sono proprio mesi di programmazione, di attivazione, di studio dei bisogni e quindi è anche un momento importante e che ci darà l'opportunità davvero di rispondere meglio ai bisogni che c'erano già, che però questa opportunità, diciamo anche che la pandemia per esempio ha evidenziato, perché, sottolineo questo, perché le equip di assistenza domiciliare che si sono attivate in modo particolare per il Covid e quindi per evitare che ci fosse il Covid in ospedale e lasciare sorvegliate insomma nei propri domicili le persone, sono equip e le usca davvero importanti. Quella qualità di servizio di assistenza domiciliare è molto significativa perché permette alle persone di rimanere nel proprio ambiente di casa, pensando agli anziani, gli anziani gli spostamenti sono sempre deleteri per il proprio equilibrio, per tutta una serie di confusione mentale che sono a rischio ad ogni piesso spinto, ma anche per i costi che la struttura ospedaliera, il ricovero ospedaliero può avere. Quindi ecco c'è stata una spinta verso questa, verso l'assistenza domiciliare che era e rimane un punto importante che anche la Regione Veneto svilupperà e che il PNRR dà come obiettivi importanti anche con finanziamenti, quindi questo sicuramente sarà sviluppato nei prossimi anni in tutti i nostri territori. Guardi che l'assistenza domiciliare come persone del terzo millennio, crediamo che nei libri di testo di storia dei decenni a venire potrà avere una propria importanza perché è diventato un aspetto cruciale di quella che era stata proprio l'emergenza, poi con l'urgenza anche della diffusione del virus nelle case di riposo, a ripensare a quello che abbiamo vissuto c'è veramente da dire non che siamo stati bravi ad uscirne, ma che prova che abbiamo sostenuto senza averne gli strumenti perché all'inizio è stato un autentico disastro, adesso siamo messi un po' meglio, ma come argomento conclusivo purtroppo, perché sarebbe bello andare avanti a parlare con lei per un tempo molto più esteso, c'è stato un convegno nel mese scorso che ha trattato dei temi importanti, significativi, più che altro volevo analizzare con lei questo benedetto termine che anche questo entra un po' nel vocabolario del, aspetti, siamo nel terzo decennio del nuovo millennio, questa parola sostenibilità, ecco noi vorremmo sapere dalla dottoressa Mirella Zambello che cosa si intende per sostenibilità, perché sono quei temi che poi rischiano di essere fraintesi oppure di non essere proprio colti anche dall'opinione pubblica, voi avete trattato le connessioni tra sostenibilità sociale e ambientale, per cui sono due aspetti significativi. Sì, questo era un convegno in occasione della giornata internazionale del servizio sociale, quindi trattato come tema di lancio per alcune politiche quindi non solo a livello nazionale e la sostenibilità è un tema che ci interpella da un po' di tempo e quindi che ci richiede di raccogliere i nuovi bisogni, come dicevamo anche questo della sostenibilità dei servizi per la popolazione anziana ti interpella sulla necessità di trovare nuove modalità, di introdurre l'innovazione in maniera adeguata, per esempio per sussidi sanitari, per controlli anche a domicilio, la telemedicina, ecco sono tutti progettualità che permettono di impostare una rete di servizi sostenibile, cioè che con la scassità chiaramente di risorse, se anche ce ne saranno implementate col PNRR, ma poi dovranno continuare e i servizi nuovi e più adeguati ai bisogni dovranno proseguire, quindi trovare delle formule per affrontare nuove modalità per rispondere a questi nuovi bisogni. Il tema anche collegato con l'ambiente è molto importante perché è anche sviluppare un contesto di vita dove le persone, quindi viene sottolineato questa dimensione di salute e di benessere non come assenza di malattia ma come adeguamento, come migliore inclusione in un contesto di vita, in un contesto sociale da un punto di vista relazionale, quindi anche una situazione in cui non vi siano conflitti sociali e in questo tema appunto la guerra ha un po' squilibrato a livello internazionale le riflessioni ma anche le ha rese ancora più cogenti sulla necessità di creare contesti di vita naturalmente in cui vi siano i diritti rispettati, innanzitutto civili, umani, ecco la tutela dei diritti umani e poi tutta una serie di servizi per rispondere ai bisogni delle persone a 360 gradi e soprattutto inseriti nel loro ambiente, quindi tutto il tema dei servizi della domiciliarità rientra anche in questo e della sostenibilità. Nel nostro convegno ci sono state esperienze presentate, quindi già realizzate, di interventi sociali che hanno valorizzato l'ambiente, le fattorie sociali come valore di recupero, di ambientazione, di inclusione in modo adeguato di persone con delle difficoltà oppure delle abilità inferiori, delle disabilità diversamente abili in un contesto in cui potevano con serenità dare il proprio contributo lavorativo e stare bene. Bellissimo, sono esperienze veramente stupende. Come argomento conclusivo, io volevo chiederle, noi viviamo un'epoca in cui si assiste ad un processo di centralizzazione della popolazione in grosse realtà urbane, cioè si tende proprio a centrare, a creare purtroppo, qui a Padova c'è un chiaro esempio, queste realtà dormitorio che sono questi agglomerati urbani all'immediata periferia magari delle grosse città dove si concentra un gran numero di persone. Adesso le parlo anche per esperienza personale, i piccoli centri rischiano di rimanere dei cronicari, come si diceva orribilmente una volta, insomma magari residenza di persone anziane che non si sono spostate per motivi di lavoro, anche questo rappresenta, crediamo, una questione da affrontare tra le tante tematiche. Io le parlo per esperienza personale, ma insomma ci sono piccoli centri, le parlo i 4-5 mila abitanti, che vedono soprattutto una popolazione sopra i 70-75 anni. Ecco, tra gli interventi che vengono sostenuti dalle iniziative del PNRR e tra i temi del convegno sulla sostenibilità c'erano anche gli interventi sulla riqualificazione urbana, perché proprio questi piccoli centri permetterebbero e permettono di avere delle relazioni più a livello umano, di valorizzare quella rete di vicinato oppure la vicinanza con le forme di volontariato e rendere più una qualità della vita più adeguata per le persone anziane che, se vogliamo, possono anche arrivare ad uno stile più lento, ma anche che possono includere situazioni anche giovanili nella gestione dei servizi, per esempio, legati ai cittadini che sono presenti. Quindi ci sono anche delle forme per incentivare la presenza delle botteghe o dei minimarket per fare servizi o per fare poi le consegne a domicilio, oppure per creare delle situazioni abitative miste, quindi da giovani coppie con bambini, che possono quindi avere l'assistenza anche da qualche anziano che vive nel condominio solidale, ci sono esperienze così, e che nell'insieme possono davvero avere una tranquillità di vita a dimensione più adeguata ai propri bisogni. Quindi insomma c'è tutto un filone importante che va a valorizzare le comunità di vita, sociali e di vita. Perché poi si rischia di vivere questa contraddizione di situazioni, perché il piccolo centro poi riserva quella tranquillità e quella mancanza di stress che purtroppo fa ormai parte nel nostro bagaglio quotidiano, perché noi senza stress sembra che non riusciamo a sopravvivere. Lei che oltretutto come assessore al welfare di una realtà problematica come Rovigo, che vive uno spopolamento giovanile piuttosto marcato perché Rovigo è a metà strada fra grosse realtà urbane che offrono ovviamente le opportunità. Stiamo desertificando dei contesti urbani che fino a quando c'erano le generazioni che modestamente rappresenta chi le sta parlando, la classe 60-70, queste classi ormai hanno spopolato i centri di provenienza, lo debole questa attenzione da parte del PNRR a realtà che diversamente rischiano di andare a finire male. Ci scusi perché sono stimoli che meriterebbero un'attenzione di ore e ore veramente di dibattito. Comunque, per banalizzare il finale, per una persona giovane che ci stia seguendo, fare l'assistenza sociale al giorno d'oggi, cosa serve? È importante perché puoi lavorare per la giustizia sociale. Chiaramente bisogna essere molto preparati, quindi ci sono i percorsi di formazione universitaria, tant'è che questo evento internazionale che abbiamo realizzato si è realizzato in collaborazione con le tre università del Veneto che hanno i corsi triennali e magistrali della laurea di servizio sociale e sono l'Università di Venezia, Padova e Verona. Con queste tre università abbiamo anche impostato un master di secondo livello per formare operatori e quindi professionisti ai livelli di programmazione, di management per questi servizi complessi che si stanno realizzando nei territori e che hanno bisogno di competenze manageriali sì nella gestione delle risorse ma anche sociale perché le risorse non sono solo economiche ma anche relazionali e della comunità. Quindi nell'approccio di comunità il servizio sociale può davvero essere importante. Diciamo che abbiamo la fortuna di vivere in una realtà come il Veneto perché pensiamo ad altre realtà nel nostro paese, tutti questi discorsi che stiamo facendo forse fanno fatica a elaborarli perché proprio non esiste una realtà che non solo li contempli ma anche sia organizzata e sia gestita in grado di offrire tutto quello che offre perché lei giustamente diceva anche la formazione costa, anche una persona che segue un'università ha dei costi perché i costi di iscrizione, i costi dei libri, sono tutti aspetti non irrilevanti. Certo sì, le università sono molto attenti agli studenti e a creare le pari opportunità, questo davvero ci sono le università che offrono le opportunità per tutti e dopodiché io direi che il nostro ordine è impegnato anche con la Regione Veneto per pianificare il più possibile questi interventi per sostenere nelle ASL e negli ambiti che ora sono i riferimenti per i finanziamenti del PNR, della misura 5 del sociale, per creare queste collaborazioni virtuose e fare in modo che possano nascere questi servizi innovativi dall'abitare protetto a tutta una serie di percorsi di inclusione delle persone e anche di interventi per favorire l'orientamento, il miglior orientamento dei giovani, ecco giustamente come stava sottolineando e alla formazione adeguata ma anche poi per realizzare la propria famiglia nei contesti più inclusivi. No, no, lei ha pronunciato un'altra parola magica, il termine orientamento molto importante. E' sempre un piacere parlare con Mirella Zambello, purtroppo ci dobbiamo fermare qui, magari riproponendoci in futuro se ci sarà l'opportunità di averla nuovamente ospite. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie a Mirella Zambello, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, ma anche Assessora Welfare del Comune di Rovigo. Grazie a voi per averci seguito, Setti in Punto ritornerà come di consueto ogni giorno per approfondire temi di attualità. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.